sei tu che proponi di bere un bicchiere visto che ci siamo per riprovare che magari quello della volta scorsa era di qualità cattiva malmostoso come ero io stamani ci sediamo in attesa di qualcuno dovrei parlarti delle mie assenze del mio passato del mio presente del mio scappare ritornare e mi piacerebbe tu mi raccontasse di un tuo aspettarmi come di un tuo odiarmi di un tuo evitarmi come di un tuo abbracciarmi arriva una donna e ci chiede se vogliamo un bicchiere di vino di quello loro buono tu mi guardi e ridi ed improvviso so che non neghiamo tutti e due quello che è stato perché esistono piccoli appigli a cui aggrapparci siamo fragili per natura nei confronti del mondo noi e continuerò a sbagliare con te con me con tutti ma sappiamo perfettamente io e te che qualunque cosa accada in qualche modo riusciremo ancora a camminare insieme guardare il mare sorriderci e magari anche parlarci